Il progetto è stato finanziato in parte dalla cooperazione italiana e due organizzazioni hanno direttamente lavorato per creare le condizioni di una bella strada come simbolo di amicizia fra due popoli. La prima organizzazione si chiama CTM ed è italiana. La seconda è Armadilla. La prima persona che adesso parlerà è il responsabile di CTM che ha contribuito alla gestione del progetto. Il signor Nicolò Volpe, il nome della persona che chiamo. Per prima cosa, come rappresentante del paese di CTM vorrei ringraziare tutti i presenti e in particolare i sindaci e il sindaco di Irkai, CTM lavora in Libano dagli anni 90, dall'inizio degli anni 90. Abbiamo lavorato in diversi settori, incluso lo sviluppo agricolo, l'educazione e le opere pubbliche. Riteniamo che questo progetto rappresenti una tappa importante per lo sviluppo della regione e del Libano e CTM sarà sempre impegnato per lo sviluppo del Libano e in particolare di quelle aree che sono state toccate, colpite dalla crisi siriana. e quindi io ancora rinnovo i miei ringraziamenti a tutti i presenti alla cooperazione italiana e ad Armadilla con la quale abbiamo lavorato in diversi progetti, non soltanto su questo. Ancora grazie e arrivederci. Grazie.